Nuovo record di tamponi e nuovo balzo dei contagi in Italia. Nelle ultime 24 ore sono stati oltre 128.000 i test effettuati, 4.458 con esito positivo, 22 i decessi registrati, in lieve flessione rispetto a ieri. Superano quindi quota 338.000 dall'inizio della pandemia i contagi. Oggi sono stati 686 in Lombardia, 491 in Veneto. Ma è ancora la Campania a far segnare un clamoroso aumento dei casi, 757 su poco meno di 10.000 tamponi, vale a dire un rapporto oltre il 7%, che è più del doppio della media nazionale, che si aggira intorno al 3,5. E che in Italia, a luglio, era intorno allo 0,8%, un'impennata evidenziata in maniera eloquente dall'elaborazione della Fondazione Gimbe, che segnala anche il crescere delle ospedalizzazioni dei positivi. Numeri che destano preoccupazione e che giustificano gli inviti alla prudenza, come ribadito anche oggi dal Premier Giuseppe Conte, parlando in collegamento con il Festival dello Sviluppo Sostenibile. Per noi dobbiamo, posso dirlo in Italia, essere ancora più responsabili di prima. Si è concentrato invece sull'età media dei decessi, l'ultimo studio diffuso dall'Istituto Superiore di Sanità. 407 pazienti, poco più dell'1% degli oltre 38.000 morti per Covid in Italia, avevano meno di 50 anni. Resta alta l'età media dei defunti per SARS-CoV-2, intorno agli 80 anni. L'insufficienza respiratoria è stata la complicanza più comune nei pazienti defunti, mentre negli ultimi mesi si registra un significativo aumento dei decessi di persone affette da fibrillazione atriale e demenza.